Ma non può prendere un gol del genere! Bro, ma sei un assassino! Ma che fa? Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Tube e Joseph ai giochi olimpici Tokyo 2020. Ciao Giuseee! E vai così! No! No, di solitamente diciamo e vai così, sì! E questa volta è no! Per me è no! Così! Sto contrariato, vabbè, posso... Vabbè, ragazzi, io rimango sempre più senza parole, non lo so, dite sotto nei commenti se secondo voi si è ubriacato anche oggi oppure no. Secondo me sì, ma prima di cominciare lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video. Grazie mille! Oggi, signori, torneremo a sfidarci a calcio. Allora, bro, avevo premuto il tasto mille volte, non si aggiornava più. Tranquillo, tranquillo, Giuseee, tanto oramai so con chi ho a che fare, tranquillo. No! Allora tu mi dici questo, sai che fa? Vabbò? Che? No, niente. Vabbè, allora, io Jit lo prendo sempre perché è bellissimo. Ma io mi faccio il mio team, Giuseee, scusa, te lo dico. Ma ti fai sempre il solito team, mamma mia, ma basta. Ma basta! Stai vedendo i tasti, ma non lo dici, sto provando. No, 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 stavo vedendo le squadre che ti hai rifatto. Mamma mia, che pendito. Vabbè, ma non mi ricordo niente, ma vuoi avere un po' di pazienza? Mamma mia. E quando ti passa, Giuseee? Sì, vabbò, se almeno tu imparassi a giocare, perché questo è quello che si è visti i tasti, capi? Ma l'ho toccata pure io la palla. Bravo, Giuseee! Mamma mia, amo che ti faccio. Ma che fai? Porca di quella vacca. Con che si scivola? Boh, tu hai visto i tasti, scusa. No! Wow! Maronne mi! Buono! Elevati, vabbè, Giuseee, scusa, ma Donkey Kong mi stava in mezzo alle scatole. E perdonami. Ma che si fa così? Corri! No, sono più veloce io, Fra. Più veloce io. No, vabbè, uscita fuori. Pagni a Giuseee, eh. Comunque. Ritenda un'altra volta. Sarei più fortunato. Di permettere proprio. Vai, vai, Gi. Vai, Gi. Vai, vai, vai. Larga, larga di qua. Dov'è? Dov'è, Shadow? Vai, Shadow. Non mi fanno andare indietro, ah. Ma che siamo tutti scoperti qua! Ma questi sono impazziti! Tiro terribile del drago! Potevo farti la special, non te l'ho fatta, perché tu voglio bene. Non ce l'hai la special... Ah, no, è vero, ce l'hai. Porca miseriaccia che ha mancato quello! Comunque, credo che di avere un problema col gioco. No, bro, io credo che tu abbia un problema in testa. No! Non si... Ma come si fa a correre? No, dopo si è cappottato Mario Broschia. Mamma mia! E chi è? Ma hai visto il tempo? Hai visto il tempo? Ma chi era questo? CR Shadow? Chi era? CR, chi debbie? No! È un passaggio in mezzo, incredibile! No! Tempo scaduto! Signori, la prima sfida al calcio è vinta. 1-0. Tube contro Joseph, finisce così. E questa volta, questa volta, non è una sola persona. Ma ne sono in quattro. Quindi, Giuseppe, salutati. Quattro capoliste! Vada a chi c'è! Venti! Sì, non puoi niente, non puoi niente. Questa squadra, bro, secondo me sono degli scappati di casa. Non sanno manco che si giocano con i piedi a pallone. Giuseppe, lo sai? Queste cose non mi piace quando le dici, eh? No, no, bro. Eh no, eh no. Tu non puoi dare dei personaggi degli scappati di casa. Perché, sinceramente... Sì, vabbè, ma l'hai vista Donkey Kong? Eh, vabbè, bro, ma tu ti si piava una scimmia. E sembra di uno che ne è scappato di casa. Ho capito che è un tuo simile. Però... No, non ti permettere. Un vero Saiyan, capi? Con le cose là. Ho capito, ho capito. Uh! Uh! Eh, fra il mo' mi lancio così mi lancio di calci nelle ginocchia, eh? Io te lo dico. Tira la! Eh, madonna! Mamma mia, che azione! Che azione incredibile! Vai, vedi, 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 vedi? Fino a mo' lo sei stato a criticare Donkey Kong. Guarda che t'ha fatto. Guarda. No, guarda che... Guarda che l'hai criticato tu, Donkey Kong. Sì, vabbè, ma l'hai vista, Donkey Kong? Eh, ti pare uno che ne è scappato di casa. Eh, perciò... Io... Anzi, dovresti chiedere scusa perché sei stato più che offensivo. Povero Donkey. Veramente, manco di vergogne. Che drago, mamma mia, ragazzi. Oh, a me non mi anticipa più una palla, questi. Vai, 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 Jit, vai, Jit. Mamma mia, questo è il mio personaggio preferito, Fra. Vai! Nooo, in un istante! Uh, eh no! Mamma mia, ho fatto un'azione che, guarda, è stato immeritato che non ho segnato qua, eh. Giuseppe, smettila. Very incredible. Mia, 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 mia. Ma smetti la cosa. Giuseppe, per cortesia, è un momento un po' particolare della mia squadra, eh. Perché stai perdendo, perciò? Sì, è un momento un po' particolare. Io, la provo. Uh! Mamma mia. Giuseppe, se segnavi qua, tiravo la partita vinta. Dietro la testa, ti do... Bro, ma sei un assassino! Eh, sì, bro, mi devi perdonare, ma oggi va così. Ti rendi conto che sei un assassino? Mamma mia, che... È mia! È scarso! Distruggilo! Vai, portier! Eh, sì, vabbè. Mamma mia, che chiusura. Cioè, regà, non sono riuscito ad entrare nell'area. Cioè, questa è una vergogna. Ragazzi, siamo uno a uno. Ciao a tutti, eh. Ciao, ciao. No, Giuseppe, l'ho detto prima io e non lo puoi ripetere anche tu nel video. Mi dispiace. Siamo uno pari. Sai che significa che mo' chi vince la prossima vince tutto. Mamma mia, attenzione. È bella azione. Oh. Ragazzi, abbiamo voglia di giocare o stamattina? Mio Dio! Mamma mia! No, 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 bro, no. No, bro, ma mira il gol. Bro, dammi il gol. No, 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 no. No, bro, questo me lo inventavo, eh. No, non ti meriti, vabbè niente. No, bro, ma hai visto? Oh, mamma mia! Ma no, che azione buttata al vento. No, bro, non ci credo, ragazzi. Oh. Eh, sì, signora, ci vorresti tirare il pallone, per favore? Porco, dove ho tirato? Ma vedi, che follia. È un po' impazzito questo. Cioè, però, questo lo ritrovano su Marte, sto pallone. No, dai, ragazzi. No, bro, questo è un a zero per me, non mi rompere. Ma stai zitto. No, 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 questo è un a zero. E se dovessero essere... No, 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 no. I punti parlano chiaro. Ma com'è possibile che non mi entrano mai queste cose? Eh, bro, se sbagli il buco... Eh... Che ti posso dire, oh? Oh, mamma mia. Ma non può... No, dai, ragazzi. Ma non può prendere un gol del genere. Mamma mia, quasi mette le mani in testa il robot. Dai, ragazzi, no, no. Ragazzi, non era un tiro potente, non era niente. No, ha schittato, bro. Che gol. È arrivata lì, si è preso il punto e ha scassato tutto. Ma vi rendete conto, ragazzi? Sì, vabbò, nia, vabbò. No! Ma che mi ridevo fino a mo'. Ma questo è stupido. Ma cosa ho fatto? Cioè, io, ragazzi, veramente non ho parole. Cioè, ma veramente. Cioè, a me viene da ridere. Ma porca vacca, ha fatto un tiro di merda, ha fatto gol. Il mio portiere dorme. Sono un drago! Sono un bagato. No, la para, la para, la para, la para. Ma io sono un col... Sono un drago! Mamma mia, frano. No, 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 però frano. Cioè, frano. Senti, a me cancella sto video, va. Eh, male. Malissimo. Fa niente. Fa niente. Shadow che non c'aveva proprio più voglia di giocare. Ragazzi, il morale è a terra. Oh, oh, oh! Vai! No, 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 no! Vai, Geet! No! Sparala sta bomba! E si vola! L'aeroplanino! L'aeroplanino Montella! Ma tu lo sai che è Montella? Ma tu pensi se andiamo a finire i ricori? No, speriamo di no, bro. No, no, ti scasso prima, non ti preoccupare. Non c'è rischio. Ehm, beh, come cazzo si chiama? Vabbè, ciao Giuseppe! Ciao Giuseppe! Ciao Yu! Finalmente! Shadow! Guardalo lì! Guarda che tira ha fatto, madonna! Fammolo vedere sto replay! Bammaronna mi! Sì, vabbè, vabbè! Minchia, però sbagliamo pure qua. Giuro che partiva una parolaccia, eh. Partiva, perché partiva. Doveva partire. Ma poi tornava perché non si sa mai. Uno deve... Ad andare c'è sempre l'entusiasmo. Vuole tornare che uno... Ciao Giuseppe! No, 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 vi prego! Desi, intervieni! Desi! Buono! Oh, mia, mia, mia arbitro! Grazie! Questa Desi non ce la fa proprio. Maronna mia! Mamma mia che ansia! Ma che era? Mamma mia, ci hai provato! Piglia! Sì! Sì! Ma dov'è? Chi ce l'ha? Non capisco dov'è la palla! Non lo capivo almeno io, bro. Primevo tutto andare, non fa niente. Ma che dragone! Ma ragazzi, Peach non può fare sti gol di merda! Che dragone! No, ragazzi, ma Peach fa solo gol di merda! No, prima è stata Desi, io no, non mi ricordo più. No, era sempre Peach. Mamma mia, Peach, donna della partita. Farò quello che sbaglia il passaggio? No! Ti prego! Oh mio Dio! Buono! No, tempo scaduto così, no. Tempo scaduto così, no. Poteva avanzare. No, ti giuro, ti giuro, questa è la partita più bella che abbiamo mai giocato qua. Vero. Mamma mia! Desi! Sei una draga! Cioè, ragazzi, un gol più brutto dell'altro sta facendo. Questo si chiama gol di merda, della merda, bro, te lo dico. Mamma mia, bro. Ma perché? Ma perché fate queste cavolate? Ma perché fate queste cavolate, ragazzi? Perché? Dovevo usare la Suprema. No, dai, ragazzi, ma... Ragazzi! Gliel'ha passata... L'abbiamo chiusa! Dai, vabbè. L'abbiamo chiusa! Gliel'ha passata quel ritardato di Jit, guarda. Gliel'ha passata lui, guarda. Bro. Purtroppo se c'hai gli infami in squadra, non ci posso fare niente. Oh! Ma danno me la pari. No! Lo sapevo io. Ragazzi. No, 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 la partita è chiusa. Direi che non c'è più nulla da aggiungere qui. Sei vabbè, ma sei stupido! Non ce la posso fare più, bro. Ma sei stupido? Non ce la posso più fare. No, bro. Non importa, non fa niente, raga. La vittoria non era importante. Ce la siamo giocata alla fine, abbiamo sbagliato ed è giusto che sia andata così. Lui, guarda quando perde. Guarda che fa quando perde. Ma che fa? Ma che fa? Oddio mio! Ma che fa? Ma che fa? Ma che fa? Oddio! Ma che fai? Oddio! Ma che fa? No, bro! No, 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 bro, io mi ritiro. Oddio mio! Sto morendo! No, bro! Bro, io! Bro, io! No, mamma mia! C'è vabbè guarda quell'altro, ma ragazzi, cioè io, 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 io non... Oddio, ma che c***o è successo qui? No, bro, non inferire, non inferire, non inferire. Bro, io non ti dico nemmeno saluto alla capolista perché guarda, non è complicato. Ti sei reso conto che effettivamente c'è qualcosa che non va? No, no, lascio stare. No, ragazzi, no. Anzi, ti chiedo scusa perché... No, vabbè, io, 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 raga, veramente, guarda, non so cosa dire. Cioè, è l'unica volta nella mia vita che non so cosa dire. Io che di solito ho la battuta pronta, la scusa pronta, c'ho tutto pronto. Niente, raga, io oggi non so cosa dire, Giuseppe. Chiudi tu, chiudi tu. Ragazzi, io sono dispiaciuto, mi dispiace per quello che è successo a Mirko. Non me l'aspettavo nemmeno io, avete visto le nostre facce sconvolte. Che dire, vi saluto e speriamo in altri video altrettanto divertenti come minimo. Ciao ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi. Ciao, ciao a tutti.